Filippo della vite dopo il secondo posto nel gigante tricolore giovani quest'anno è arrivata la vittoria quindi sei il campione italiano giovani cosa ci racconti? è stata una bellissima gara nonostante il caldo la pista era molto bella e quindi sono molto felice di questa vittoria e niente adesso facciamo la gara di domani e poi un po' di riposo è stata una grande stagione l'esordio in coppa del mondo in quest'anno e poi quella grande gara in bulgaria quindi veramente bravissimo sì sì è stata una bellissima stagione con risultati che non mi sarei aspettato a inizio di questo stagione quindi sono felicissimo e niente vediamo